Ve lo dico subito, questo prodotto costa troppo, costa circa il doppio di quello che ho pagato più volte, perché ne ho acquistato più di uno, questo stesso prodotto in tempi non proprio recenti, dal 2018 in avanti, per decorare il mio balcone. Funziona benissimo, questo è identico a quello che ho già da tempo, funziona benissimo, però questo qua in particolare costa più o meno il doppio di quello che avevo trovato io a suo tempo. Perché è già aperto? Già aperto perché è un pannello solare, quindi gli ho fatto prendere il sole per qualche giorno in modo tale che le batterie si caricassero e andandolo a provare adesso si possa vedere anche come illumina, come funziona. Partiamo quindi appunto dal pannello solare che è un po' il core di tutto quello che andiamo a vedere, qui dentro c'è il pannello con una pellicola protettiva sulla parte proprio del pannello solare. Bisogna andare con l'unghietta a staccarlo in questa maniera, a spellicolarlo e ci sono anche dei residui di lavorazione delle plastiche che sono rimasti in giro, più che delle plastiche secondo me del colla caldo che viene utilizzata qua sul connettore di uscita per chiudere questa parte. Come mai lo so perché dopo qualche mese capita a volte che la batteria non si ricarichi efficacemente e che quindi occorre andare a svitare le viti dentro si trova una batteria a stilo e la si mette ricaricabile, la si mette sotto carica in casa normalmente e si riprende, riprende il suo ciclo di vita senza problemi. Tasto on off e tasto modalità, adesso lo vediamo però per farlo, lo tiro fuori dalla confezione e vediamo che cos'altro abbiamo qua nella confezione, solite cose, se ti è piaciuto lascia una recensione manuale, piccolo manuale di istruzioni. Vediamo solo le modalità, se ci dice qualcosa di particolare, ci dice no, nulla, almeno apparentemente qui nulla, questo non c'è nulla in lingua italiana, no, rettifico, lingua italiana, quella al centro, pannello solare. Non sono neanche crociate le voci del tipo di pannello solare usato, batteria che c'è all'interno, numero di led, completamente in bianco, nemmeno si sono sbattuti a crociare le voci corrispondenti al prodotto che ti stanno dando. Dunque, dentro la confezione abbiamo questa catena, catena luminosa da 8 metri, è così indicato, non mi sembra poi così lunga per essere 8 metri, lo verificherò. Abbiamo tasselli, tasselli che servono per, che servono i tasselli, non hanno alcun senso perché i tasselli servirebbero se questo si potesse fissare al muro in qualche modo, ma non ci sono attacchi per i tasselli e quindi che senso hanno i tasselli? Questo invece si va a incastrare in questa maniera a slitta, così, così e si può sorreggere. Io l'ho infascettato al balcone, alla ringhiera del balcone, in modo tale che prenda il sole, volendolo mettere nella terra, dentro un vaso c'è il suo picchetto per andarlo a incastrare in questa maniera. Sistema che se fosse stato fatto al contrario lo avrei apprezzato perché avete già capito che mettendolo in questa maniera il solo peso del prodotto lo fa sganciare e quindi vecchi modelli invece erano studiati per stare al contrario. Nulla toglie però che noi andiamo a girare al contrario la staffa e risolviamo il problema in questa maniera, però sarebbe stato bello secondo me farlo già direttamente girato al contrario. Andiamo ad accendere il prodotto, intanto se prende il sole come sta facendo adesso non accenderà le luci, se invece non prende il sole quindi non sta ricaricando quello il parametro di misura, se non sta ricaricando le batterie allora accende i led. Accende i led che sono sul giallognolo, io li preferisco così perché di notte sono molto più delicati che altre soluzioni. Vado a cambiare la modalità, non l'ho ancora premuto però il tasto, quindi sta facendo lui un tour delle varie modalità che sono disponibili senza che io abbia premuto alcunché. Faccio un po' di ombre in modo tale da vedere un po' meglio e va a illuminare le varie parti che ci sono. Premo il tasto, allora prima modalità ondeggia tutto, seconda modalità blocco A, blocco B, blocco A, blocco B, terza modalità invece un po' più fade, mi viene da dirlo in inglese, sfumato, un po' più delicato che va ad accendere una parte, poi l'altra e così via, molto lentamente, molto delicatamente in questa maniera. Lampeggio super veloce, che mi ricorda un po' gli effetti delle giostre, questi effetti. E poi che cosa abbiamo? Tutto acceso, tutto spento? Sì, tutto acceso in questo momento. Provo a metterlo qua dentro, vediamo se si vede un po' meglio facendo ombra in questo modo, ecco. Sì, l'illuminazione di tutto quanto sembra salire e poi scendere molto 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 lentamente. Premo ancora blocco A, blocco B, insomma mi sa che siamo tornati indietro, le stiamo rivedendo un po' tutte quante. E poi tasto di spegnimento in questa maniera. Io le utilizzo da parecchi anni, devo dire che hanno resistito alle intemperie peggiori, non gli avrei dato troppo valore a questo prodotto perché a vederlo così alla fine sembra abbastanza approssimativo. Ci sono queste palline bianche che vanno ad avvolgere il led che c'è, non mi sembrano almeno guardarle così sigillate perché io vedo che la plastica qua è aperta e quindi sembra che l'acqua possa entrare. Io le ho messe però sul balcone di casa nel 2018 e sono ancora lì e quindi sebbene siano fatte come sembra, cioè non proprio benissimo, alla fine hanno resistito. Non è questo specifico prodotto quello che ho utilizzato in passato ma la serie è la stessa, si vede proprio che è identica e quindi mi aspetto che la qualità sia la stessa. Quindi durevole anche se molto grossolano, molto approssimativo. In questo caso specifico però 20,99 euro io vi suggerisco di fare una ricerca un po' più approfondita e cercare altrove perché lo si trova alla metà del prezzo questo prodotto. 20 euro secondo me è fin troppo. Queste vanno bene anche nel periodo di Natale, forse le troverete anche colorate che si possono alimentare un po' tutte queste con pannelli solari oppure con la presa di corrente di casa oppure con l'USB, insomma ci sono vari modelli disponibili sul mercato. Io ho questa qua con il pannello solare e i pallini bianchi caldi, quindi con l'effetto un po' giallognolo. Mi ci sono trovato bene ed esteticamente parlando per durevolezza lo consiglierei, però ad un prezzo decisamente inferiore. O la basso al venditore o cercarlo altrove. O la basso al venditore o cercare altrove.